I nuovi capannoni del Carnevale di Fano costruiti nel 2005 in Viale Piceno hanno sostituito quelli storici realizzati nel 1954 in Viale 12 Settembre dove ora sorge un parcheggio. Ovviamente come qualsiasi struttura con il passare del tempo se non viene mantenuta presenta delle criticità ed è quello che da diverso tempo i carristi lamentano a lente ovvero infiltrazioni d'acqua ad ogni pioggia. Una situazione pericolosa sia per chi lavora all'interno ma anche per le maestranze su quattro ruote. Nonostante le diverse mail inviate nell'ultimo anno e mezzo dalla Carnevalesca al Comune che ricordiamo è proprietaria dei tre hangar sullo stato in cui versano i capannoni e senza ricevere risposta è bastato un video pubblicato sui social nella giornata di ieri per capire l'entità in cui lavorano i maestri carristi fanesi per allertare chi di competenza. Dispiace che si sia dovuto arrivare a questo clamore però purtroppo la situazione qua giù è veramente gravosa. Ovviamente l'assessore Brunori si è subito attivata, lei è arrivata da poco in questo assessorato e ecco mi dicono che tra oggi e domani la ditta verrà a fare l'intervento al tetto. Poi ovviamente ci sono altri interventi che abbiamo segnalato meno urgenti ma comunque da fare quindi mi auguro che piano piano questa situazione si possa sanare. Non si è ditta nessuno qui perché ovviamente è per il bene di tutti che tutto funzioni come deve. Ma oggigiorno i carristi non sono solo preoccupati sullo stato dei capannoni ma anche per quanto riguarda gli spazi sempre più stretti e con le opere che fanno difficoltà a stare all'interno delle strutture. Una grossa problematica perché ci costringe a rifiutare lavori, qui veramente si lavora con spazi strettissimi e quindi ovviamente anche per la salute e la sicurezza non è il massimo. Come ci era stato promesso si dovrebbe vedere di poter fare almeno altri due capannoni almeno per stipare i carri più piccoli e i carri grandi lasciarli costruire in questi primi tre capannoni. Speriamo che anche questo possa essere fatto, anche un progetto per capire se nel piano del PNRR escano dei bandi per poter fare questo. Ovviamente capisco che il Comune non può avere risorse per questo però magari col PNRR sì. Logicamente noi non abbiamo risorse per far fare dei progetti però conto che il Comune si adoperi anche per questo. Ripeto, io passo, tutti passano, il Carnevale resta ed è importantissimo che cresca anche da questo punto di vista.